L'idea della Giunta regionale nasce nel maggio 2016 ed oggi è finalmente realtà. Dopo la presentazione degli scorsi giorni, è stato inaugurato presso la Certosa di San Martino a Napoli un progetto che si inserisce nell'opera di valorizzazione turistico-culturale della Campania, il Cammino delle Certose e i Percorsi dell'Anima. Si tratta di un percorso che coinvolge la Certosa di San Martino di Napoli, quella di San Giacomo di Capri e quella di San Lorenzo di Padula e le unisce in un unico cammino spirituale e contemplativo della vita dell'ordine monastico più rigoroso della Chiesa Cattolica. Questo cammino unico ha l'obiettivo di mettere a sistema le tre certose presenti sul territorio della Campania, luoghi di fede e di preghiera, ma anche capolavori architettonici ed artistici. Questo è un progetto che mette in rete le tre certose, Capri, Napoli e la Certosa di Padula. È un patrimonio unitario che si racconta, sono luoghi simboli di arte, cultura, spiritualità. Io penso che questa è la strada giusta, stiamo lavorando con grande determinazione nell'integrazione territoriale, la Campania va presentata nella sua interezza, questo è quello che noi stiamo provando a fare. Si inserisce bene nel progetto di valorizzazione del turismo culturale della Campania. Sono tante le azioni che abbiamo messo in pista con il Presidente De Luca e che iniziano a dare dei risultati importanti. Basta pensare che sul turismo culturale la Campania è la seconda regione più visitata d'Italia. Questo progetto si inserisce anche nel turismo culturale religioso. Si collega ad un'altra grande iniziativa, i Cammini dell'Anima, che andremo a presentare a brevissimo. Un altro progetto che guarda con grande determinazione nel turismo religioso. E anche questo progetto mira ad un'integrazione territoriale e ad un collegamento tra i grandi attrattori e le aree minori.